I royalisti stanno esortando la regina a spogliare il duca e la duchessa del Sussex dei loro titoli dopo che Meghan è apparsa nel chat show americano, Ellen.Meghan si è aperta sulla vita familiare mentre promuoveva il suo nuovo libro The Bench, ma i fan affermano che si è beffata dei reali britannici dopo aver preso parte a uno scherzo. Di ritorno nel Regno Unito, il duca e la duchessa di Cambridge hanno partecipato alla Royal Variety Performance, dove il presentatore Alan Carr ha fatto alzare le sopracciglia quando ha scherzato con il principe William sul fatto che non ci stava provando con sua moglie dopo essersi complimentato con la bella duchessa.